La tranquillità della riserva naturale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi è stata nuovamente turbata da atti vandalici. Lo scorso fine settimana le aree protette destinate alla riproduzione di specie in via di estinzione come il fratino e la tartaruga marina hanno subito la tredicesima ondata di distruzione negli ultimi tre mesi. Continua questo braccio di ferro con chi cerca di distruggere anche il tratto costiero perché non dobbiamo dimenticare che dall'anno scorso dei criminali hanno distrutto a mano i nidi di fratino che erano stati censiti e quest'anno sta distruggendo le aree del progetto area del fratino e delle dune con cui si riproducono nella riserva Borsacchio il maggior numero di coppie di specie protette compreso le tartarughe marine, unico nido trovato il primo giorno lo scorso anno. Il presidente delle guide Marco Borgatti ha scritto al presidente della regione Marco Marsilio e al sindaco Mario Nugnes e all'autorità di pubblica sicurezza. Nella missiva Borgatti descrive il danno recato alle aree